Questa sera abbiamo anche un regalo particolare per i nostri ragazzi, quindi state pronti. Direi di partire con il primo, con il numero 3 è G! Con il numero 5, Jason! Ancora più forte, con il numero 5, Jason! Con il numero 6, Jimmy! Non l'ho sentito, Jimmy! Benita! Jimmy! Benita! Jimmy! Benita! Grande Jimmy! Adesso andiamo avanti con il nostro numero 7! Idus! Beniti! Idus! Beniti! Idus! Beniti! Un applauso anche per l'Ingus! Con il numero 8, Nicola! Natali! Nicola! Natali! Nicola! Natali! Con l'allevato l'Ingue! La nostra monata toscana! Con il nostro numero 9, Sink Sander! Beniti! 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 Eccolo qua! Un applauso anche per lui che sta arrivando! Bene! Allora, non abbiamo ancora detto il suo nome la domenica, quindi direi che dobbiamo fargli sentire un po' di calore in particolare! Al nostro numero 10! Riccardo! Salve! Salve! Sardo! Riccardo! Riccardo! Salve! Ben arrivato! Ben arrivato, ben arrivato ieri! Eccolo qui! Con il numero 11, Jeremy! Sino! Jeremy! Sino! Jeremy! Sino! Con il numero 14, Josh! Dio! Josh! Dio! un applauso al nostro Josh Pagli per il numero 14 e adesso con il numero 15 Matteo Tambone Matteo Tambone Matteo Tambone un applauso al nostro Matteo Tambone ti piace Tambone? Vuoi dire qualcosa? la possiamo far portare a casa nel caso? perché che la parano? ah poi a casa firmala firmala Tambone con il numero 18 Luca Gantini Luca Gantini Luca Gantini un applauso a Luca Gantini guardate io il wrestler Luca Gantini eccolo qui il nostro wrestler ultimo ma non meno importante con il numero 21 il nostro capitano Giancarlo Matteo Giancarlo Matteo Giancarlo Matteo un applauso al nostro capitano The Doctor Pulcis in fundo il nostro allenatore Attilio Gaia Attilio Gaia Attilio Gaia Grande coach un applauso al nostro coach Grazie 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 Grazie